Procediamo ora a rifiutare un piercing al labbro, quindi applicheremo un labret. Questo è il materiale che utilizzeremo, quindi un piercing da 12 mm con una sfera 1.2, una sfera media da 3-4 mm e lo applicheremo in questo punto. Ok, appoggia così, appizzicata, basta, questo è quello che sento. Ok, adesso applichiamo la sferetta, pensavi peggio? Sì, già, mi aveva già abiturato la stessa persiglia. Ok, allora inizio, mettiamo sulla sferettina questa micro, ecco, effetto finale, tipo ti piace, provo a guardarti con lo specchio. Bene, tutto a posto? Sì, sì. Perfetto. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.